buona giornata amici da massimo fughetti oggi è martedì 11 gennaio 2022 ebbene il santo del giorno con questo con queste notizie iniziamo la nostra rassegna stampa oggi è Santigino Papa Santigino era un greco era nato ad Atene nell'anno 139 si era distinto per le sue grandi doti morali ed intellettuali fu eletto Papa a Roma e istituì nel suo pontificato i gradi della gerarchia del clero e nonostante i primordi della chiesa si trovò a fronteggiare già due eresie quella di Cedrone che asseriva vi fossero due dei quello dell'antico e quello del nuovo testamento e quello di Valentino che aveva un po così imitato gli atteggiamenti di Simon Mago e Santigino non non sembra che fu martirizzato ma ugualmente viene considerato un martire per le persecuzioni che ebbe dovuto che insomma che fu oggetto appunto durante il suo pontificato e la sua attestazione della fede cristiana e vediamo ora le previsioni del tempo vediamo che la situazione del tempo si sta rimettendo comunque c'è molto vento oggi sulle Marche una giornata con forte grecale e nubi variabili peggiora la sera durante la notte sulle coste con i primi episodi di pioggia mista a neve e sull'interno il vento spirerà da nord le temperature sono in calo si aggirano dai 4 agli 8 gradi ed ora diamo un'occhiata ai giornali a partire oggi dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano vediamo l'esito della conferenza stampa che si è tenuta ieri da parte della Wider la società che intende realizzare un grande cantiere sul porto di Fano Wider investirà 20 milioni nel porto ma abbiamo bisogno di tempi certi soprattutto la società ha bisogno di certezza e non ha certo bisogno di polemiche di contrasti se vuole investire quei 20 milioni che servono appunto per rilanciare non solo la loro attività, la sua attività produttiva ma anche la cantieristica fanese infatti il nuovo cantiere potrebbe suscitare l'opportunità di assumere 100 persone direttamente e di costituire un indotto di 300 persone quindi 400 persone che troverebbero occupazione oppure un aumento della loro attività gli imprenditori Maggi e Fraternale presentano il progetto del cantiere navale per uno yacht di 85 metri e ci sono diverse iniziative, diverse spiegazioni che sono state appunto fatte nella giornata di ieri vediamo che sono state affrontate le perplessità e le critiche piovute sul progetto un progetto che vede sì un'altezza ampliata a 24 metri invece dei 14 previsti dall'attuale piano regolatore del porto ma è anche un progetto che cura molto l'estetica usando gli elementi del vetro e del legno inoltre lascia uno spazio di 35 metri quadri superiore a quelli previsti attuali liberando la visuale dalla passeggiata dell'Isippo verso la costa pesarese inoltre viene costituito anche un centro di innovazione per le start up si tiene conto anche della possibilità di valorizzare le giovani generazioni quelle più portate alla tecnologia infatti ha detto Maggi la nostra società si costruisce barche ma soprattutto costruisce tecnologia che poi sperimentano i nostri yacht e quindi vende all'estero vediamo che la Wider si è detta disposta a concedere spazi a proprio carico a start up, studenti, ricercatori e in generale a tutti coloro che cercano un luogo adeguato per riunirsi dotato di wifi, sale e riunioni, spazi di cow working dove potersi incontrare, confrontarsi, elaborare idee e anche svilupparsi e anche un centro ricreativo per riunirsi e stare insieme dunque un'attenzione particolare rivolta ai giovani ed ora vediamo le altre notizie su Fano libri e dolcetti donati ai bimbi nella nuova scuola dell'infanzia ieri si è inaugurata la nuova scuola materna a Cucurano quella ubicata nel stabile lasciato libro della scuola elementare che si è trasferita in via Dubcek dunque è stata inaugurata dalla sindaco Massimo Seri dell'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin e anche dalla dirigente del complesso dell'istituto comprensivo della Padelino la Silvia Facci Grigioni una scuola completamente rinnovata si tratta anche di un nuovo servizio di scuolabus che è stato appunto inaugurato dopo che è stato sciolto il contratto con Latundo il nuovo servizio è stato affidato alla ditta Frat Arcangeli di Frosinone che sostituisce la leccese Tundo dunque libri e dolcetti per così festeggiare il ritorno a scuola dei bambini concordata con lei di la bonifica dell'Agip lo ha detto ieri l'assessore all'ambiente Barbara Brunori un'operazione da concludere entro il mese di maggio finalmente ci sono tempi certi per la restituzione da parte dell'ENI di questa area che è in stato di degrado versa ormai isolata da molto tempo, da molti anni ci sono 170 giorni dall'approvazione della determina che approva il progetto di bonifica un progetto che procederà per tre fasi cioè bonificando uno strato superficiale poi quello medio e infine quello più basso invece quello profondo si lascerà così perché dopo le analisi compiute da ARPAM e ASUR sembra che non influisca appunto sulla attività così del sottosuolo e nemmeno sulle falde acquifere ad ASET servono uno studio e una strategia per il futuro è una intervista rilasciata questa da Cora Fattori che rilancia l'istanza dei sindaci ma non si valuti solo la fusione con marche multiservizi dice a proposito di ASET e la consigliera di Azione più Europa torna a considerare i rapporti tra ASET e marche multiservizi la priorità dice sempre pensare cosa sia realmente migliore per il territorio entrambe le posizioni espresse all'interno della maggioranza dove il PD ha una tesi le liste civiche ne hanno un'altra entrambe le posizioni espresse hanno dei punti che apprezzo dice Cora Fattori sui quali riflettere ma ad entrambe manca il punto di partenza quello di una analisi professionale sul futuro dei servizi per il territorio e sappiamo come poi prima o poi insomma i servizi dovranno andare a gara e chi è più forte se li assicurerà c'è anche poi una risposta ad una domanda condivide quindi l'esigenza di riprendere il dialogo di ASET con marche multiservizi che è un po' il conquibus delle polemiche ASET si deve necessariamente confrontare con marche multiservizi dice la consigliera e con qualsiasi altro soggetto gestisca i servizi del territorio soprattutto in vista della messa a gara della gestione delle reti di gas e acqua a partire dal 2028 appunto come ho detto la cole marathon ci riprova gara l'8 maggio dopo la sospensione questa classica dell'eupodismo nazionale prova a effettuarsi dopo due anni di fermo edizione lanciata sui social contando sulla fine del covid speriamo che questo accada veramente giriamo ancora le pagine sul Corriere Adriatico e siamo sulla Val Metauro anzi siamo ad Apecchio un grande invaso e pozzo del Burano lo vediamo qui in questa fotografia un grande invaso che potrebbe costituire una grande risorsa idrica ricordiamo tutti il periodo di siccità che ha così contrastato gli approvvigionamenti la scorsa estate qui interviene il presidente del consiglio regionale Dino Latini il quale chiede un approfondimento degli studi per non creare poi dissesti idrogeologici arriva uno stop del presidente del consiglio regionale che annuncia un confronto con la giunta qui vediamo appunto Dino Latini serve uno studio tecnico per calcolare quello che accadrà se si costituirà questo grande invaso alimentato appunto dalle risorse del pozzo del Burano lungomare più accogliente a Marotta è stato presentato dal sindaco Barbieri il nuovo piano spiagge domani in consiglio comunale se ne parlerà recepite le richieste degli operatori ha detto il sindaco e appunto tra i punti dell'ordine del giorno del consiglio comunale di domani c'è questo punto importante il nuovo piano spiagge vediamo qualche novità si darà la possibilità di ampliamento ai chioschi sulla spiaggia fino a una superficie di 60 metri quadrati con la possibilità di migliorare i servizi e poi oltre agli impianti sportivi come beach volley, tennis, soccer si potranno realizzare piscine, idromassaggio palestre attrezzate gallerie per mostre ed esposizioni biblioteche e zone dedicate alle attività per bambini con possibilità di organizzare aree gioche attrezzate gli interventi saranno volti a rendere più accessibili le spiagge con l'abbattimento delle barriere architettoniche insomma questo in sintesi le novità del nuovo piano spiagge di Marotta ad ora diamo un'occhiata anche alle notizie di Urbino per poi procedere a quelle pesaresi ad Urbino si parla ancora insistentemente dell'anniversario del Duca Federico che segue a quello dedicato a Raffaello Federico una città da sfogliare infatti a Federico sono stati dedicati due calendari presentati ieri a cura del Comune dell'Accademia Galleria Nazionale e del Midor in tutto 20.000 copie il minimo comune denominatore è lui è il Duca Federico a 600 anni dalla sua nascita due calendari del 2022 22 che illustreranno i luoghi frequentati dal Duca Federico e devo dire che questi calendari vanno subito a Ruba insomma ciascuno ne vuole una copia riattivare lezioni ed esami in presenza all'università è la richiesta di Europa Verde tutelano gli accademici a discapito della città è quella un po' l'accusa, la protesta che fa questa associazione Europa Verde si riattivino subito lezioni e gli esami in presenza seguendo le linee guida del governo a Urbino aleggia nuovamente lo spettro dello spopolamento perché appunto se non si va in presenza ciascuno segue le lezioni a casa propria e non frequenta la città Ducale sulle pagine pesaresi anzi prima di passare alle pagine pesaresi voglio così farvi vedere questa notizia l'abbiamo già così evidenziata ieri ma oggi c'è un seguito è quello della elezione del capo dello Stato a livello regionale sappiamo che le Marche come le altre regioni dovranno nominare tre rappresentanti che eleggeranno in Parlamento il nuovo Presidente della Repubblica e ciascun consigliere vorrebbe essere lui il candidato ed ora il Corriere Adriatico evidenzia quello che è accaduto all'interno del Partito Democratico Mangialardi grande elettore ma il PD non è mai completamente d'accordo comunque sembra che sia lui il rappresentante della minoranza che dovrà essere eletto per andare in Parlamento quelli della minoranza sono ormai Acquaroli e Dino Latini i due rappresentanti appunto della Giunta e del Consiglio regionale e vediamo che cosa è successo all'interno del Partito Democratico prima c'era così l'indicazione del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli poi insomma ci sono state delle nuove un ribaltamento si è pensato a indicare Manuela Bora che è un po' la scelta di genere è la componente più giovane del gruppo del Partito Democratico ma alla candidatura di questa si è affiancata la candidatura di Mangialardi e tra le votazioni è risultato quattro voti a favore della Bora e quattro voti a favore di Mangialardi quindi parità netta a questo punto la Bora si è ritirata e Mangialardi è stato eletto ma non all'unanimità su otto consiglieri ha ricevuto soltanto cinque voti a favore alcuni, tre consiglieri non hanno partecipato addirittura al voto e sono stati la stessa Bora, Carancini e Mastro Vincenzo comunque ormai Mangialardi sarà colui che eleggerà il nuovo Presidente della Repubblica insieme agli altri due rappresentanti della maggioranza regionale e ora vediamo le pagine pesaresi dove si parla di trasporto pubblico e dei problemi che hanno investito questo settore della vita scolastica dei nostri studenti il Green Pass rafforzato svuota i mezzi pubblici ma scattano cento controlli solo uno studente comunque resta a piedi perché non era dotato appunto del documento e intanto continueranno le verifiche a campione c'è comunque una confusione generale nel settore per l'interpretazione della nuova ordinanza e si sono verificate anche lunghe code di auto la soluzione diventa infatti il trasporto privato per tagliare la testa al toro per evitare poi i rischi ai loro figli molti genitori hanno accompagnato loro stessi con la propria auto i figli a scuola la situazione è complicata a scuola il personale è quasi dimezzato lo dice il Preside Rossini la DAD non è una soluzione lo sarebbe invece il vaccino obbligatorio secondo il Preside della Marconi stanno a casa nuove classi e centinaia di ragazzi chiusi in quarantena i contagi sono in crescita esponenziale almeno un 30% degli alunni è già a casa l'assessore Murgia la vediamo qui nella foto Camilla Murgia nuovo assessore della giunta pesarese dice il problema è la rincorsa alla sostituzione dei docenti infatti solo tre giorni di scuola in presenza dal 7 gennaio a oggi sono stati sufficienti al Dipartimento di Prevenzione e di Area Vasta per registrare una mole di comunicazioni per la messa in quarantena di centinaia e centinaia di alunni un problema insomma che crea difficoltà anche all'azione didattica un patto per i tamponi con privati e farmacie Marche Nord dal gennaio effettuerà 36 tamponi alla settimana con solo 10 sedute interviene anche la consigliera regionale Vitri un molecolare dice in laboratori esterni costa 103 euro la regione dunque si muova e insomma sono oneri piuttosto pesanti da appunto fare pesare sul bilancio regionale carta verde per la prima volta il mio albergo è rimasto vuoto lo dice il conte Pinoli nella storia dell'Alexander Museum non era mai accaduto è una disgrazia ed è una dichiarazione che riassume un po' la situazione in generale degli albergatori che dopo l'obbligatorietà appunto della carta verde rinforzata denunciano accusano una grave diminuzione dei loro clienti signoretti apprezza invece la sicurezza fa bene alla clientela il presidente APA è il caso dei ristori e vediamo qui tre dichiarazioni quella del conte Pinoli per recuperare una giornata di chiusura ci vogliono mesi ha dichiarato mentre Paolo Costantini presidente di APA Hotel dice un provvedimento comprensibile ma incide negativamente insomma siamo noi albergatori a sopportare le conseguenze di questa situazione è nel nostro interesse che la situazione almeno si stabilizzi aggiunge Roberto Signorini titolare dell'Hotel Met insomma si sa che bisogna fare dei sacrifici per cercare di tornare ad una situazione normale vuole sbloccare il denaro suo e della madre minaccia e chiude in casa il tutor della donna si tratta di un uomo che voleva insomma riappropriarsi del denaro che aveva insieme con la madre ma la madre era sotto tutor e lui non ci stava insomma augito con violenza violenza contro l'amministratore di sostegno si tratta di un 45enne che è stato condannato dal giudice a 10 mesi di carcere per dunque per violenza il giudice lo ha condannato a 10 mesi attribuendo le attenuanti generiche equivalente alle aggravanti l'uomo comunque aveva altri precedenti per minacce a pubblico ufficiale un caso appunto da così da verificare sul giornale per tutti i particolari la neve ora diventa divertimento dopo Carpegna si scia anche sul Nerone giovedì l'inaugurazione degli impianti in notturna sul Catria l'attesa è per sabato invece l'ultima coda a Cantiano e Fontevellana strade le libere garantite la transitabilità della rete provinciale ed una cornice suggestiva per quanto riguarda le colline imbiancate a Durbino a Vallefoglia invece si reclama insistentemente la guardia medica una petizione online quattro paesi chiedono il servizio si tratta di Gabicce per Vallefoglia Gradara e Tavuglia è partita appunto in queste quattro località una raccolta firme per la riapertura urgente della guardia medica la petizione al momento è solo online ma ha già ricevuto abbastanza adesioni e sappiamo la guardia medica che importanza ha nell'assistenza sanitaria quando non si trova il medico di base e vediamo ora quello che scrive il resto del Carlino sulla pagina fanese abbiamo l'articolo che riguarda la Wider con una bella fotografia del rendering di quello che verrà realizzato nell'area della cantieristica nei pressi della passeggiata del Lisippo un grande stabilimento realizzato appunto in legno e vetro un gigante di vetro e legno che diventerà un'icona della città e il presidente Marcello Maggi l'amministratore delegato Fabio Fraternali dopo le polemiche non entreremo nel porto a spallate ha dichiarato ma con il consenso di tutti e un altro gioiello che verrà realizzato a Fano è il nuovo ampliamento della biblioteca federiciana federiciana un progetto esecutivo entro l'anno la prossima settimana partiranno le verifiche e i sondaggi sul terreno l'assessore alle biblioteche Samuele Mascarin ragioneremo con la città anche di contenuti per quanto riguarda questa nuova soluzione urbanistica e architettonica che darà prestigio e rilievo alla biblioteca federiciana che di per sé è un elemento culturale storico di grande importanza per la città di Fano sia per l'edificio che per i contenuti appunto all'interno dei suoi scaffali il covid svuota le classe la preside fa la supplente è accaduto al Polo 3 in quarantena anche due autisti degli scuolabus ed è la dirigente Leonora Ugello che si è trovata nelle condizioni di sostituire un insegnante che in quel momento era assente perché è appunto risultata positiva abbiamo dichiarazioni anche del preside del Nolfi Samuele Giombi al Nolfi 150 studenti su 1300 sono positivi o comunque a casa in due classi c'è la DAD per i non vaccinati Cucurano ha fatto tombola inaugurata anche la Seneca è stata intitolata a Federico Seneca la nuova scuola materna di Cucurano i bimbi dell'infanzia statale finalmente collocati nella struttura di via della scuola i carabinieri mettono sotto sequestro per un mese un cardellino una notizia eccezionale nei guai infatti è finito un allevatore di Bellocchi a causa di un anello manomesso e dopo l'isolamento il volatile è tornato in libertà ebbene il cardellino questa volta è finito veramente in gabbia cioè sotto sequestro per circa un mese in seguito ad una ispezione da parte del gruppo dei carabinieri CITES il servizio che tutela le specie di fauna protetta il fatto è successo qualche settimana fa quando i militari dell'arma hanno eseguito un'ispezione ad un allevatore di Bellocchi è in carcere finito il cardellino mancano i medici rientra il dottore Di Francesco a San Lorenzo in campo il dottore riprenderà il servizio a partire da domani ma farà solo visite non a domicilio e appunto prescriverà ricette a San Costanzo il 15 sabato prossimo è la festa del patrono San Costanzo con taglio del nastro infatti verrà inaugurata piazza San Pio e appunto ci sarà il sindaco Filippo Sorcinelli che ha deciso proprio di inaugurare questo nuovo spazio pubblico durante la festa del santo patrono che si festeggia con grande partecipazione a San Costanzo a San Giorgio invece torna il camper vaccinale si prevede un nuovo assalto appuntamento dopo domani per prime seconde e terze dosi all'interno della sala polivalente di via Garibaldi e vediamo ora qualche notizia di sport vediamo che qualche notizia di sport per quanto riguarda la vis la vis ha la terza dose il ritocco è parinello è stato completato ieri l'iter vaccinale contro il covid dei giocatori biancorossi il primo colpo di mercato è un esterno destro del 2001 della prosesto ed ecco Parinello ultimo colpo della vis sul mercato mentre in alto a destra vediamo il mister Banchini che sta lavorando con la squadra e ha programmato un allenamento singolo oggi e anche domani quando sarà possibile un test per verificare la condizione dei suoi giocatori vediamo anche per quanto riguarda il Fano il Fano riparte da quota 10 oggi giro di tamponi e ripresa degli allenamenti con la speranza che i positivi si siano ormai negativizzati catalano il covid è entrato in ogni spogliatoio dalla A in giù nonostante il massimo scrupolo ed è il barese Raimondo catalano che fa questa osservazione 47 anni e da qualche partita è il tecnico del Fano che ha ottenuto abbastanza insomma discreti risultati quindi si attende la prima partita dopo un periodo piuttosto lungo di sosta e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 buona giornata grazie a tutti